Ciao, sono Manuel, faccio parte di Groove Anima Culturale e il tema sviluppato è quello della cultura e dell'animazione. Con il nostro Groove abbiamo organizzato un concorso fotografico con lezioni da un fotografo professionista, un concorso musicale con un concerto serale all'aperto e infine abbiamo organizzato cinema all'aperto con mercatini handmade. Sotto la nostra Groovebox c'è un iPad che abbiamo usato per organizzare gli eventi, per prendere appunti, per fare le locandine. Abbiamo imparato ad usare tanti programmi di grafica diversi anche per montare video e montare foto e abbiamo imparato bene anche ad usare i social come Instagram e Facebook e siamo riusciti anche ad aver tanto seguito. La parola che abbiamo scelto per il nostro Groove è iniziativa. Iniziativa